Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Attesa visita nelle Marche del Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, che ha fatto il punto sull'emergenza della Regione, sia per quanto riguarda il SISBA, sia per l'alluvione dello scorso 15 settembre e dello scorso mese di maggio. A Senigallia il Ministro ha incontrato i sindaci della Valle del Misa a dieci mesi dalla tragedia che provocò morti e distruzioni, toccando il tema che, più di ogni altro, ha raccolto una lunga serie di appelli degli allufinati su Vera TV, quello di pulire i fiumi al più presto, anche a costo di valutare nuove norme legate ad autorizzazioni ambientali. Insomma, quello che diciamo da mesi, lavorare per togliere i tappi che rischiano di provocare nuove sondazioni. Proprio stamane valutavamo la necessità di rivedere alcune norme soprattutto legate a autorizzazioni ambientali. Un fiume non può restare invaso dalle sterpaglie, dagli arbusti, dai fanghi e dai detriti. Il letto di un fiume deve essere sempre libero per saper ricevere l'acqua quando arriverà. Non sappiamo quando, ma arriverà. E quando arriva o trova l'alveo libero o altrimenti si fa strada da sola e fa danno. Ecco perché la manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere assicurata dagli enti locali con una particolare attenzione, soprattutto in queste aree che hanno dimostrato di essere particolarmente fragile ed esposta. In dieci anni le Marchi hanno dovuto subire la scossa sismica e l'alluvione. Devo dire che è un territorio particolarmente sovraesposto sul quale è puntata l'attenzione del Governo nazionale e della protezione civile in modo particolare. Questo significa che si velocizeranno anche i tempi? Questo significa che bisognerà modificare alcune norme, bisognerà neutralizzare alcune posizioni improntate a fondamentalismo ambientalista, significa che bisogna mettere il diritto alla sicurezza e quindi il diritto alla vita come priorità assoluta rispetto ad ogni altro obiettivo. Ministro, per gli sfolati del sisma? Stiamo lavorando, non è una competenza della protezione civile nazionale ormai come sapete, ma noi stiamo verificando area per area quali sono le condizioni nelle quali la comunità che ha dovuto subire lo sforlamento possa essere restituita alla sua normalità. Abbiamo a che fare con norme che nei decenni passati, nonostante abbiano determinato un freno alle celeri azioni ricostruttive, rimangono ancora vigenti. Non possiamo cancellarle con un corpo di spugna sebbe un processo graduale che parte dal governo ma che deve essere condiviso dal Parlamento. Dopo la tappa di Senigallia, Musumeci si è recato a Pesaro per incontrare in comune i sindaci colpiti dall'allovione dello scorso mese di maggio.